Ciao mamma, come stai? Bene grazie, tu benvenuta! Che cuciniamo oggi? Crespelli alla Valdostana, cose buone, come sempre! Buongiorno, benvenuti nel mio piccolo bistro e questo è il sogno della mia vita dove, e con l'aiuto dei miei figli e il sostegno continuo vado avanti, faccio le mie piccole specialità del Sud Italia, coccolo la mia clientela con i miei piatti e la mia prelibatezza. Sono due anni, c'è il 25 marzo, sono due anni che vado avanti e la mia gioia è la mia grande soddisfazione. I miei figli mi sostengono una continuazione senza mai stancarsi e io senza stancarmi vado avanti con le mie idee, con le mie cose. Questa è la mia specialità, le paste di mandorla sono il nostro fiore all'occhiello, la specialità della casa e tante altre buone cose. Ecco, mettiamolo a posto.